La scultura a tutto tondo. La scultura a tutto tondo è una scultura in cui tutti i lati sono rifiniti, per questo la si può osservare a 360 gradi. L'artista inizia il suo lavoro intagliando direttamente il blocco, senza fare procedere alla fase esecutiva una fase di progettazione. Considerando il fatto che ogni modifica apportata ad un materiale duro risulta definitiva, in quanto a questo non è possibile aggiungere, ma solo togliere materia. Fin dai tempi più antichi, per l'elaborazione iniziale dell'idea plastica, come punto di riferimento durante la lavorazione, gli scultori hanno fatto ricorso all'uso di modelli di piccole dimensioni in creta o in cera. Le misure del modello venivano infatti riportate sul blocco, o con il compasso da scultore o con il filo a piombo, partendo dai punti più sporcenti. Il blocco, dopo essere stato inizialmente sgrossato con punte di ferro, veniva sbozzato con uno scalpello a taglio detto gradina. Al lavoro della gradina, faceva seguito quello degli unghietti, che servivano per definire i sottosquadri, cioè le parti rientranti in profondità. Per rifinire e modellare definitivamente nei dettagli l'opera scultorea, si ricorreva quindi all'uso di un trapano particolarmente fine, il violino, che serviva per precisare ulteriormente i sottosquadri e gli isolamenti, cioè, le parti in forte distacco dal corpo, nonché all'utilizzo di lime e abrasivi naturali, che permettevano di levigare la superficie. La testa e gli arti venivano generalmente modellati a parte e uniti al corpo con perni di metallo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.